Cari amici, buongiorno. Mercoledì 27 ottobre, caratterizzato da viabilità condizionata dalla pioggia in autosole tra Caglianello e Napoli, anche sulla 24, la Roma-Teramo. Allagamenti e danni con molte stradi chiuse in Calabria e in Sicilia, dove anche oggi permane uno stato di allerta gialla da parte della protezione civile. In questo momento il traffico è intenso, soprattutto lungo le direttrici che conducono i centri urbani per i consueti spostamenti pendolari del mattino con l'inizio delle attività lavorative, lo evidenziano le immagini che monitoriamo in real time qui in A4 in area Meneghina e anche la diramazione di Roma-Sud abbiamo delle code. Sulla 24 si è appena verificato un incidente che sta generando code per due chilometri tra via Fiorentina e tangenziale Est. Vi comunico che oggi è chiusa la 1 dalle 9 fino alle 18 tra Rioveggio e Aglio in entrambe le direzioni. Abbiamo una segnalazione di un incidente in A14 che è in fase di ripristino in questo momento tra Pedaso e Grotta a mare in direzione Pescara. Prima di concludere vi informo che ci sono delle code per programmati lavori di manutenzione sulla 26 la Genova Gravelona-Tocce tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone in direzione Genova-Voltri e da pochi secondi si è verificato un incidente in autosole tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Queste le notizie principali, grazie per l'attenzione da Alessandra Canale di Rai Pubblica Utilità, una bellissima giornata, guidate con prudenza e arrivederci.